ragazzi e bentornati in questo nuovo video di fortnite oggi siamo con il daviano salutare nino non può parlare perché ha le cucerotte rega sabato saremo in live dalle sette alle dieci farò dei provini giocherò con iscritti ci divertiremo tutti insieme con il damiano siamo squad e cercheremo di fare la vetro reale speriamo bene volevo dirvi che ho cambiato senso a 150 iscritti vi farò vedere la mia senso se qualcuno la vuole provare dove andiamo ok raga 10 like per un prossimo video mi raccomando dai rocco qual è il tuo youtuber preferito ora come ora non lo so penso o crazy bad io so chi è il preferito di nino tutti lo so il mio power per warzone invece per fortnite penso per fortnite mi effetti tu hai tutta la vita a inglese tu non capisci niente non mi importa no qualcosa non la capisco che capisci io che è infatti se ne caga se vieni da me nino qua c'è un tattico bianco raga aspettate riaccomi raga c'è gente c'è gente l'ho vista soprattutto dove nino squagliare 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 uno dove nino l'uomo mettimi il ping dove sono i nemici così vengono ad aiutarti io sto arrivando resisti un secondo sono dietro di te io pure sono da te curati nino c'ho pure un medic che ti vieni c'ho un medic che ti vieni nino 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 c'è gli alice di immigrato col pipompa ne ho quattro col pipompa ti acqua te ne ho dati quattro ok ok no te li sei ripresi fra ah no grazie attenti raga uno l'avevo fatto quasi fuori ucciso ucciso gg che idioti hanno edita proprio hanno fatto esplodere il risonenzioso dentro la box questo quanto deve essere idiota mi sto ridendo a proposito mi sembra che c'è altra gente qua raga non ho colpito di niente avevo visto attivarsi un falò qua raga se venite raga io non ho colpito di niente io sono colpito di assalto e ne ho 192 eh me ne dai un po' che ne ho 30 niente niente speciale uuuuh la pepina che trovato lo so io a chi darlo so io a chi darlo nino fammi un bel lavoro dammi colpi assalto colpi assalto io ho 192 io mi dai il cilino io tre bello semine di prossimità io li prendo onestamente non sono male non sono nel c4 le c4 io il cielo ne ho 5 ok allora io prendo l'esco a me mi è entrato uno nel box ha incominciato a lanciare tutta esca non capivo chi era quello vero ho sperato solamente a casa gli ho fatto 200 quello vero giuro giuro c'è pure la vita salvata c'era c'era pure nino se non mi sbaglio che in quella partita ti ricordi nirava moglie due antonio quello mentre nella box e ti ricordi se ti ricordi fai la risata si ricorda proprio totalmente a casa ho sparato come se proprio mi spunti davanti non sapevo se era proprio un vero sparo rega rega guardatela safe non sarà così ho i docro andiamo in safe dai eccoci raga c'è gente che ci bussia che ci bussia 31 ma dove c'è altra gente che sto vogliono con questi qua eliminati noi e nero ci siamo fatti tutti tranquillo non erano tanto tanto forti a me c'era un timo intero tra i tifati no 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 perché a due li hanno cichinati da non so dove che fa è uno è ramo nel cescuglio vabbè gg andiamo in safe frega andiamo in safe ma come te li hai fatto i cittadini non ne ho non ne ho tre due due io aspetta ok vieni prendili te li ho lanciati ok ora me li faccio mi pare di aver visto una pozza due medici ora me li prendo si qua oh no una pozza ah una pozza ok ok c'è il dinero tu che ti metti a mazze? mazze non tanto è buono io bene io bene per la legna perché ne ho 900 ma dai almeno 200 che ne ho 150 ok tiani no ho sbagliato raga ma siamo alla prossima safe dai ci diamo in safe eccoci raga stavamo per andare in safe ma c'è gente perciò ora andiamo a pushare c'è gente c'è gente davanti ho provato a sniperare sono caduto non ci credo nooo da sopra regali ha fatto headshot ho presa uno con la mina che non lo dico fra che fai? se stai fermo io ero fermo mettiamoci qua mettiamoci qua vieni vieni ok ok io mi piace il medit resta un attimo in box così mi proteggi ok damiano damiano vieni qua ah beh io c'ho il medit tienilo anzi qua ce lo sparabende ma adesso gli sei fregato colpi cieco gli sei fregato la legna che c'era a terra io non ne ho legna però vabbè colpi cieco ok grazie io ti ho lasciato il medit fra andiamo in safe andiamo in safe che sennò ci muoviamo vabbè no si che è qua però raga a me sei buona mitaglietta perchè c'ho lo spaz tu dove? raga raga c'è gente la raga vedi i scildini hai piazzato la jump? andiamo a pushare hai colpi pompa ok a voglia neo neo raga mi sentite? raga avete i scildini? no c'è gente da me da dove hanno provato a senniferare? da me grazie nino vanno la minigun siamo morti dove sono? dove sono? che provo a senniferarli? che c'ho il bar e vanno la minigun ora si mettono a spammare nooo rocco mi hai coperto la visione a quello gli ho scalato un gran 126 126 126 la nella montagna nino a uno gli ho fatto 126 ci stava mirando col barrette no non ci credo 126 ok eh ma c'è quello eh io devo ricaricare il barrette quello lo starà curando di sicuro io ho una jump dopo andiamo in safe raga spammate sennò lo cura raga spammate spammate sennò lo cura eh c'è quello nella montagna che dà fastidio capito? perciò io sto sparando a lui si si vabbè ma che dice finiscono in terreno quella minigun schifosa nino mi spari qualche benda no non ci vedo raga ho messo la jump ho apprezzato la jump ce l'hanno rotta a me a nino ok allora sto vedendo no no inizia ad andare no no io sono qua sono qua ecco è un ammazzo capito 126 assurdo quello a cui avevo fatto 126 io mi sa che dell'annore dio santo sta minigun eh sanno solo spammare basta non ho materiali io ora queste hanno pure le gronde della montagna oh mi hanno rotto va 315 a 1 a terra si ma siamo 1 i 2 e 3 raga lo vanno a curare vedi spammate spammate eh ma fra io non ho materiali 315 a terra ho preso quello nelle spalle raga pusciamo raga pusciamo no no fa io non ho non ho materiali fammi spaccare questi alberi hai i materiali hai i materiali raga io sono in safe ho una buona posizione Damiano hai materiali fra ho un bel po' di mattone mi ho fatto il pelo mi ho fatto il pelo c'è un altro timmo c'è un altro timmo non ci credo non potete capire però o c'è quello siamo in un panino siamo in un panino c'è gente la? è sopra occhi a quelli di sopra che hanno le gronde mi sono spaventata io mi sono spaventata io mamma mia no gli ho fatto il pelo non ci credo ci ha fatta tutti e due ma è impossibile è sotto è sotto è uscito dalla box a fare il clodo a nino vabbè gg vabbè raga siamo in idea di terzi dai raga se se vi è piaciuto questo video lasciate like voglio 10 like per il prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale condividete sabato in live dalle 7 alle 10 ciao ciao ragazzi